A tutti quelli che pensano che il diffuso disagio scolastico sia soltanto colpa dell'immigrazione, io dico certo, l'immigrazione, la disoccupazione, l'emarginazione, la dittatura della pubblicità, la famiglia disgregata, certo, ma badiamo bene a non sottovalutare l'unica cosa su cui noi possiamo agire personalmente, noi insegnanti, e che risale alla notte dei tempi pedagogici, la solitudine, il senso di vergogna che prova il ragazzo che non capisce, il somaro perso in un mondo dove gli altri capiscono, solo noi insegnanti possiamo salvarlo da quella prigione, formati o meno per farlo. Gli insegnanti che hanno salvato me e che ha fatto di me un insegnante non erano formati per questo, non sono preoccupati della mia infermità scolastica, non hanno perso tempo a cercare le cause né tantomeno a farmi la predica, erano adulti di fronte ad adolescenti in pericolo, hanno capito che bisognava agire tempestivamente, si sono buttati, non ce l'hanno fatta, si sono buttati ancora, giorno dopo giorno, ancora, ancora e mi hanno tirato fuori e altri con me, ci hanno letteralmente ripescati dalla discarica, dobbiamo loro la vita, è stata passione, senso del dovere, amore, ma forse, forse è sconveniente parlare d'amore nell'ambito dell'insegnamento, forse è meglio ricorrere ad una metafora per descrivere il tipo di amore che anima tutti gli insegnanti che ho conosciuto in questi anni, metafora dunque, metafora alata per l'occasione. Alpi francesi, primissimi giorni di settembre, mi sono addormentato su una qualche pagina di libro, mi sveglio ansioso di proseguire, faccio per saltare giù dal letto quando un leggero chiasso mi ferma, è tutto un garrire intorno alla casa, garriti diffusi, tenue e intensi insieme, ma certo, è la partenza delle rondini, ogni anno intorno alla stessa data, si danno appuntamento sui fili della luce, si apprestano a migrare, è lo schiammazzo del ricongiungimento, quelle che ancora volano, alto nel cielo, chiedono l'autorizzazione per l'allineamento a quelle che già posano sui fili, frementi del desiderio d'orizzonte, spicciamoci, si va via, arriviamo, arriviamo, volano velocissime le rondine, arrivano da nord in schiere cicocchiane dirette a sud, ed è esattamente l'orientamento della mia camera da letto, nord, sud, un abbaino a nord e una doppia finestra a sud, e ogni anno lo stesso dramma, un po' di quelle rondine, le più tonte, forse ingannate dalla trasparenza di quei vetri allineati, vanno a sbattere contro l'abbaino a nord, niente scrittura, niente lettura, niente lavoro stamattina, apro l'abbaino a nord e mi ributto a letto, ed eccoci per tutta la mattina io e mia moglie impegnate a guardare quelle squadrie di rondini che passano alla nostra camera, forse improvvisamente silenziose perché intimidite da quelle due figure che le passano in rassegna, il fatto è che due vetri fissi della finestra a sud sono murati, perciò rimangono obbligatoriamente fissi, la finestra aperta è ampia di chi lascia passare tutti gli uccelli del mondo, ma nonostante tutto un po' di quelle rondine vanno a sbattere contro i vetri fissi, è la nostra percentuale di somari, i nostri scarti, quelli che non seguono la retta via, risultato, vetro fisso, poc, eccola, tramortita sul tappeto, allora uno di noi due si alza, prende la rondine stordita sul palmo della mano, pesa quasi niente, ossa piena di vento, aspetta che si risveglie e poi la manda a raggiungere le altre, la risuscitata valla via zigzagando nello spazio ritrovato, poi valla via a raggiungere le altre, sparisce nel suo avvenire. Ecco, questa è la mia metafora, vale quel che vale, ma è questo l'amore in materia di insegnamento e a questo molti insegnanti hanno dedicato tutta la loro esistenza, salvare dal coma scolastico una sfilza di rondine sfraccellate, non sempre si riesce, alcune non ritrovano la strada, altre rimangono al tappeto, non si ridestano, ma noi ci proviamo, ci dobbiamo provare, sono i nostri studenti, la verità è che una rondine tramortita è una rondine da rianimare, punto e basta.